Dal 18 settembre al 10 ottobre, prossimi all'avvia la prima finestra temporale per richiedere gli incentivi per l'assunzione dell'avviso 14-2024 del programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Le aziende siciliane interessate, così come prevede il decreto pubblicato sul sito della Regione, dovranno presentare la documentazione richiesta tramite l'apposita piattaforma. Si tratta dell'incentivo attivato dall'assessorato regionale del lavoro rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale. Nel rispetto dei tempi previsti da lunedì prossimo, le aziende siciliane potranno richiedere l'incentivo che abbiamo deciso di attivare con l'obiettivo di consolidare l'occupazione, dice l'assessore al lavoro Nuccia Albano. La dotazione finanziaria è di 40 milioni, somma che consentirà di erogare i contributi per sostenere l'occupazione di 1.350 lavoratori. Successivamente alla fase di presentazione delle istanze, Sicilia Digitale, che gestisce la piattaforma informatica, fino al 25 ottobre 2024 si occuperà di validare le domande. La procedura a sportello verrà conclusa con l'assegnazione del finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'incentivo viene riconosciuto fino ad un massimo di 10.000 euro all'anno per tre anni per le nuove assunzioni a partire dal 1 gennaio 2024 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Sono esclusi i contratti di apprendistato. Beneficiari sono le aziende, incluse le micro, le piccole e le medie imprese, che hanno un'unità produttiva in Sicilia o che la attivino. L'incentivo può essere riconosciuto per un massimo di 10 lavoratori nel rispetto del regolamento dei minimis previsto dalle norme europee.